Nel big match della quattordicesima giornata il Pineto stravince tra le Muramiche contro il Trastever per 3-1 in vantaggio nel primo tempo gli ospiti con Bertoldi. Nella ripresa in due giri di lancette i Biancazzurri rimontano con Della Quercia e Nonni si aggiunge al tabellino dei marcatori il solito Giambè. Calcio d'inizio per gli ospiti, il match incomincia subito con un colpo di scena Massimo Pesca-Bertoldi. Bellissimo pallonetto che elude Mercorelli e sblocca subito la partita. Superato il momento di shock l'undici di casa prova a riequilibrare le sorti della sfida. Traini tornato dallo stage in rappresentativa serie D prende la mira e conclude Semprini blocca. Ancora gli adriatici su corner Nonni impatta a un passo dal pari. Sempre gli abruzzesi padroni del campo ci provano. Domissi gran conclusione a millimetri dal bersaglio grosso. Callissipario sul primo tempo con un monologo biancazzurro. Nella ripresa la partita subito come nel primo tempo a un colpo di scena. Maio in area di ricore trova il capitano Della Quercia che come un treno scaraventa in fondo al sacco. Neanche il tempo di esultare che addirittura il Pineto mette la freccia del sorpasso. Maio semina il panico Nonni in azione fotocopia e raddoppia facendo esplodere il Mariani Pavone. Gli abruzzesi sono un fiume in piena Della Quercia. Arcobaleno per Giambè che incorna e piega le mani a Semprini a un passo dal miracolo. Il Trastevere accusa il colpo e non riesce ad accreare azioni degne di nota. Ancora la squadra rivierasca vuole il gol della sicurezza. Giambè slaro minare al Semprini con i pugni respinge. Non succede più nulla. Il Pineto vince, convince, stravince e vola sempre più da solo in cima. Alla classifica!